ciao ragazzi ciao ragazze benvenuti in un nuovo vlog flash allora a parte il fatto che ho delle sopracciglia enormi e devo andare assolutamente alla parrucchie settimana prossima ci vado però faccio solo le sopracciglia mio marito tagliare i capelli ma io non li stiro a soli voglio lasciare ricci anche perché il tempo così caldo e quant'altro comunque ragazzi vado dritto al punto faccio questa live come avete visto dal titolo ho una cosa molto molto importante da dirvi allora perché è molto importante perché quando poi metterò il posto sul mio canale che scriverò sto andando in live io oggi 25 sabato e vado faccio una live molto molto importante dove spiegherò uno i motivi per cui sto facendo delle live perché le sto facendo determinate live 2 dirò tante cose e 3 sarà una zona marrone ok visto che le persone copiano me io farò la zona marrone ovvero il colore della pupù quindi adeguato a ciò che dovrò dire e quindi niente quindi si sveglia l'arcano e poi parlerò anche di denis quindi vi invito a guardare la mia live molto importante sono super seria quindi se vi va ci vediamo dopo ciao